Ho sentito trrrr, capito? Come dice anche il professore, un cedimento di protesi c'è stato da parte mia. Ovviamente vado in tua letta e io mi sono sentita scoppiare. Io ho detto mi è scoppiata la tetta, che dovevo dire? Mi è scoppiata, che dovevo dire? Scusa. In effetti c'è stato questo cedimento di protesi, me la sono ritrovata qua giù. Io non ho vergogna di dirlo perché mi è successo realmente. Ovviamente, confini nessun problema, ma sentiamo direttamente le parole del capo. È un'ingiustizia. Sto bene, sto bene. L'aspetto è una bella... Anche questo, visto, è pochissimo il segno, il segno qua, e anche qua poco, no? Va bene? Ma il dente si ruota... E il dente, sì, purtroppo il dente no, dovrò fare un impianto probabilmente. Oh, non abbia timore. Non trappannerò la stessa carie stavolta. Quel nervo sta già muorendo. Un nervo appena scoperto ancora vivo è infinitamente più sensibile. Quindi trappannerò un dente sano, finché non raggiungerò la polpa. Ministro Caro, io penso che siamo sempre allo stesso punto, la colpa è dei magistrati che non applicano bene le leggi buone che il governo fa. Possiamo dire questo? No, possiamo dire che la colpa è in parte di una parte della magistratura che sicuramente non applica le leggi, si occupa molto di più di Berlusconi che non dei problemi veri del Paese. E dall'altro è anche un problema di tipo culturale, perché non c'è da parte di tutti gli schieramenti politici coesione su questo tema. Si pensa ancora che l'immigrazione possa essere aiutata e l'integrazione possa essere favorita da un atteggiamento consenziente e bonista. Ehi, dimmi tu signor Paus, dimmi come si può, arrostire un negretto ogni tanto, con la massima serenità. Io dico a Nilo più consiglio, presto in risarla, non c'è niente da fare per gine di gatto, ma è il tuo colore di pelle di gruosanbò. Ecco perché io vorrei, vorrei la pelle nera, vorrei la pelle nera. Buonasera, tra poco a cura di Rai Sport, novantesimo minuto, con le immagini e i commenti delle partite di calcio. Alle 20.30, come di consueto, daremo la linea alle informazioni del Tg2. La serata ci riserva due prime visioni da non perdere. Sì, devo dire una descrizione drammatica del nostro Alfredo Macchi, però dimenticando che cosa? Dimenticando che la maggior parte di questi sono clandestini che hanno trovato da lavorare, che non si può neanche dimenticare di trascurare quello che dicono i cittadini, perché li hanno aiutati, eccetera. Poi non si può trascurare che la risposta, la protesta da parte di questi ospiti, molti dei quali clandestini, è stata quella di incendiare auto, devastare le vetrine, ferire anche poliziotti, sono rimasti feriti naturalmente anche loro. Questo è un aspetto, certamente, alla solidarietà umana. L'ha detto anche il Pontefice oggi, guai tradire la solidarietà umana, ma guai anche accendere la violenza. E la violenza lì, accesa dagli immigrati, poteva far esplodere in qualcosa di peggio. Cosa vola? Come? Cosa vola? Veramente, che non vola niente. Tu non capire niente, eccellenza dire tu cosa volere. Ah, io? Tu ci sei venuto. O ti ci hanno mandato. Mi hanno chiamato. Eccellenza, questo uomo con un grosso panze, essere signor Rossi. Oh, signor Rossi. Eccellenza, ambasciatore, che dongo. Piacere, piacere. Ta ta ta, bum bum zu. Piacere, comodo. Tira una sedia, signora. Senta, nel caso che c'è un incendio, lei cosa fa? Qual è la via di fuga? No, perché questo tipo di controllo è probabilmente, se oggi lei entra, cioè è successo che qualcuno all'altro è entrato in caso di incendio, che cosa fanno? A prescindere, a prescindere dagli autoriti che appesantiscono la macchina burocratica. Noi, onorevole Marino, un attimo, onorevole, un attimo, prego. I NOC, i servizi di qualità che vengono certificati all'ospedale, a prescindere da un attimo, conferma. Non fanno sistema, purtroppo, onorevole, non sono sistema. Non può esserci un garante, ci sono 20 regioni, la competenza sanitaria regionale dovrebbe avere 20 autori. Un garante ce l'abbiamo, è quello del ministero, è il ministro della sanità. Però dipende da dove nasci. A quanto è dura la salita, in gioco c'è la vita. Tu non sai che peso ha questa musica leggera, esci innamori, vivi, ma ci puoi morire quale sera. Io di voce scelta avrei, ma non per gritare aiuto, nemmeno tu che hai mai sentito. Mi son tenuto il mio segreto, io sorda, io ero muto, se sei a terra, non strisciare mai. Londra, sei pronto a Londra? Sì. Eri Corsini? Forse no, se non c'è pronto a Londra, no? Nuovo York? C'è Platero, benissimo. Allora, andiamo, andiamo a New York, abbiamo un problema tecnico con Londra, lo ristabiliremo, considerando che il maltempo influenza purtroppo anche i collegamenti. New York, Mario Platero, corrispondente dagli Stati Uniti del cui avevano solo 24 ore. Mario? Mario? C'è un problema? C'è? No, allora facciamo una cosa, intanto no, andiamo avanti con la protezione civile. Ascoltami! Parole, parole, parole! Ti prego! Parole, parole, parole! Io ti giuro! Parole, 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 parole! Viviamo da anni in vigenza di una legge che si chiama Bossi Fini. E' ora che se lo ricordi anche il ministro. Questi imam, questi imam che confondono il nostro paese con una terra di conquista, ce lo mettono bene in testa o provvede lo Stato con la nuova legge o andiamo a pigliarli noi uno per uno per la barba e li buttiamo fuori a calci nel culo dalla Banaria e dall'Italia. Che gli devo dire? Io non ci voglio andare! No, non voglio parlare! No! Attentatevi, senta mia sorella! Io non ho offeso nessuno della sua famiglia e mia sorella, nessuno si deve permettere ad offendere la mia famiglia come io non offendo loro. Ma è fiducioso sul dialogo, Presidente? A me sembra che... No, per me non ci sono problemi, abbiamo tanti anni di collaborazione reale, quindi non ho mai avuto dubbi al riguardo. Senta, che risponde a Bersani che insiste con la sua legge a altre persone? Ma le leggi, non voglio più parlare di queste cose, sono leggi del libertate e mi indigno soltanto quando sento, quindi non voglio indignarmi. L'immunità però potrebbe essere una strada. Ma non lo so. Adesso pensiamo a fare le cose di cui c'è bisogno, come le riforme a cui ho lavorato e in cui stiamo lavorando. La mia famiglia è la mia famiglia. La mia famiglia è la mia famiglia, Grazie.